La sera del 2 gennaio 2024 a Pratiglione, frazione Carella, si è svolta la festa dei Coscritti 2006 dove hanno partecipato ragazzi provenienti da Prascorsano, Fabria, Salasse e San Corbano Belmonte. Alle 22.30 circa, prima si sono zuffati in due, poi 12 ragazzini inferociti si sono scagliati contro uno solo. La vittima, un 25enne, è stata soprafatta da calci e puni. Da fuori del branco si è fermata solo quando il giovane è riuscito a scappare, è spuntata addirittura una pistola a scacciacani. Tutto si è svolto rapidamente, nessuno di loro ha chiamato le forze dell'ordine e come se nulla fosse sono tornati a festeggiare. A seguito alle lesioni, il ragazzo colpito è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari che li hanno riscontrato a una prognosi di 15 giorni. L'attività investigativa dei militari si è rilevata piuttosto complessa, molti partecipanti hanno glissato con un non ricordo e soltanto grazie alla visione dell'immagine delle telecamere di visosorveglianza, ai riconoscimenti fotografici e alle varie perquisizioni domiciliari, i carabinieri sono riusciti a identificare i presunti colpevoli. La pistola a scacciacani, insieme a un disfusore elettrico, utilizzati per intimorire la vittima durante l'aggressione, sono stati trovati a casa dei diciottenne. Le persone denunciate sono 12, 7 diciottenni, 11 settenne, un ventenne, 2 ventunenni e un 55enne, tutti gravemente indiziati di lesioni personali aggravate in concorso e minaccia aggravata. Grazie a tutti.